A Ferragosto chi rimane in città può cogliere l'occasione e visitare i musei che resteranno aperti. Sarà possibile andare al museo etnografico e quello diocesano dalle 11 alle 17, il CAMEC sarà aperto dalle 11 alle 18, il museo del castello San Giorgio sarà aperto dalle 10 e 30 alle 17 e 30, il museo LIA sarà aperto dalle 10 alle 18, la palazzina delle arti sarà aperta dalle 15 alle 18 come il museo del sigillo che garantisce l'apertura pomeridiana. Non solo dunque mare per i turisti e per i nostri concittadini nella giornata di Ferragosto ha commentato l'assessore Asti, ma anche l'occasione per una visita ai nostri musei, alle nostre collezioni e alle nostre belle mostre.